Ho capito solamente una cosa, ovvero che l'unico modo per conservare la mia sanità mentale sarebbe quello di smettere completamente di leggere le notizie o almeno quelle informatiche al mattino. Che cosa è successo? Che questa mattina dopo essermi fatto la mia bella corsetta e doccetta come al solito sono caduto in tentazione e mentre facevo collezione ho dato una scorsa alle ultime novità. Ebbene quello che ho letto rassenta davvero la follia. Partiamo da aggiornamenti di Windows 10 e Windows 11 che diciamo così portano la loro buona dose di novità ma anche e soprattutto una notizia che mi ha fatto seriamente pensare che Microsoft sia letteralmente schizofrenica. Di che cosa si tratta? Te lo dico immediatamente e allora se ti senti pronto iniziamo. Ma quale miglior modo di iniziare un video se non un bel rituale apotropaico che come al solito ci consente di tenere a bada loro ovvero le divinità del tubo? Disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti va? Bene e adesso che abbiamo ridotto di ben 0,0001 per mille le probabilità che le suddette divinità bannino il nostro video di oggi andiamo a vedere quali sono gli argomenti del giorno nella fattispecie. Ci occuperemo degli ultimi aggiornamenti per Windows 10 e per Windows 11 di tutte le gioie e soprattutto dei dolori che portano con sé ma anche di una importante novità introdotta proprio da lui in persona. Ebbene sì perché se ne è pensata un'altra che a me ha fatto letteralmente accapponare la pelle e che ci riguarda tutti quanti molto da vicino. ma cominciamo a guardare proprio questo articolo di hardware upgrade. Microsoft rilascia KB505081 e corregge il bug con i DAC USB e non solo. Una buona notizia andiamo a vedere. Microsoft ha distribuito l'aggiornamento KB505081 per Windows 10 portando il sistema operativo alla build 19045.5436. Si tratta di un aggiornamento non di sicurezza mi raccomando che fa parte del normale ciclo di manutenzione di Microsoft. Una delle più importanti novità di questo aggiornamento è l'introduzione della nuova app Outlook per Windows di cui potrebbe importarci anche relativamente se non fosse che su molti pc gli utenti si trovano immediatamente spiazzati, si abituati ad utilizzare la vecchia app e dovranno fare un pochino di esercizio per abituarsi anche alla nuova. L'aggiornamento inoltre risolve i problemi dell'audio che sono problemi che hanno afflitto gli utenti di Windows 10 nelle ultime settimane ed in particolar modo sono stati corretti quei bug fastidiosissimi relativi ai dispositivi audio USB e specialmente i DAC che utilizzavano dei driver piuttosto vecchi e creavano una serie di problemi dal non essere riconosciuti al causare dei piccoli blocchi al sistema. Microsoft ha inoltre affrontato il problema che causava la visualizzazione del messaggio di errore del codice 10 che consisteva appunto in una impossibilità di avviare correttamente questi dispositivi. L'update risolve anche un problema con le fotocamere USB che non venivano riconosciute quando venivano accese direttamente dal sistema operativo. Anche questo un bug che era emerso dopo l'installazione del precedente aggiornamento e naturalmente anche di questi dispositivi. Microsoft infine ha affrontato dei problemi che si verificavano con i lettori NFC e soprattutto quelli relativi alla stampa USB e IPP su USB e questi erano dei problemi abbastanza sentiti da chi non riusciva effettivamente a stampare dopo il penultimo aggiornamento. Microsoft tuttavia e questo ovviamente l'ho evidenziato in rosa riconosce che alcuni problemi persistono ancora tra cui dei bug relativi ad Open SSH, dei problemi di compatibilità con determinati software e soprattutto un bug innocuo del registro eventi che ne impedisce la corretta visualizzazione. Innocuo nel senso che non crea problemi al sistema ma molto dannoso per noi tecnici quando abbiamo bisogno di andare a dare un'occhiata al registro eventi e lì non troviamo le informazioni che ci consentirebbero di risolvere ancora altri problemi. Infine va notata una cosa ovvero che gli utenti di Windows 10 possono scaricare e installare questo aggiornamento manualmente attraverso il menu impostazioni che troviamo in Windows Update. Attenzione quindi perché questo aggiornamento che è molto importante e risolve effettivamente questi bug potrebbe non arrivarti in automatico e quello che devi fare per scaricarlo te lo faccio vedere su Windows 11 ma ti garantisco che l'operazione è esattamente identica anche su Windows 10. Devi semplicemente andare qui in basso sul tasto start, cliccare sulla voce impostazioni e una volta che si saranno aperte le impostazioni scegliere l'ultima voce ovvero quella che si chiama Windows Update. All'interno di Windows Update fai clic sul pulsante per la verifica della disponibilità degli ultimi aggiornamenti e vedrai che sicuramente ti troverà anche questo. Ti chiederà se vorrai installarlo e tu naturalmente lo confermerai. Situazione abbastanza diversa invece per quanto riguarda Windows 11 e in particolar modo la 24H2. Ce ne parla sempre Hardware Upgrade che titola così Windows 11 24H2 Microsoft rimuove un altro blocco di compatibilità. Ecco i dettagli. Di che cosa si tratta? Se ben ricordi ne avevamo parlato in un video precedente che ti lascio linkato qui in alto qualora te lo fossi perso, la versione 24H2 di Windows era stata bloccata su tutte quelle macchine che avevano l'HDR attivo e quindi se avevi una 22H2 oppure una 23H2 non potevi installare la versione 24 per via di questo blocco di Microsoft dovuto al fatto che su queste macchine con l'HDR attivo si verificavano delle alterazioni dei colori nel migliore dei casi ma anche un blocco di una serie di applicazioni in altri casi. Ebbene la svolta è arrivata con l'aggiornamento non di sicurezza anche in questo caso uscito in anteprima nel gennaio 2025 KB 5050-094. Questo aggiornamento non solo ha risolto i problemi legati all'auto HDR ma si è occupato anche di alcune criticità abbastanza importanti relative alla riproduzione degli audio su PC che erano dotati di dispositivi di riproduzione USB. Microsoft ha confermato che la correzione è ora parte integrante di Windows 11 24H2 quindi l'aggiornamento non è più in anteprima ed apre ulteriormente la strada alla distribuzione su larga scala di questo aggiornamento. Ma attenzione perché mi hanno avvertito quei santissimi uomini sempre siano lodati degli amministratori barra moderatori del forum e della chat che molti membri della community cosa che io personalmente non ho potuto ancora riscontrare hanno lamentato delle difficoltà con questo aggiornamento. Vuoi in fase di installazione vuoi nel post installazione. C'è da dire una cosa ad onor del vero tuttavia. Questi problemi non sono dovuti ad un difetto di questo aggiornamento bensì al fatto che questo aggiornamento ancora una volta mal si applica su macchine che hanno qualche problema sui file di sistema di Windows. Se quindi per caso anche tu sei caduto in questo trappolone non ti preoccupare rivolgiti tranquillamente al forum oppure alla nostra chat trovi tutti quanti i riferimenti come sempre nella descrizione di questo video e vedrai che i moderatori ti sapranno aiutare. Naturalmente ci sono anche io per quello che posso con i commenti quindi sei tutelatissimo anche in questo caso. E qui invece arriviamo alla chicca del giorno o forse dovrei dire all'argomento spinosissimo del giorno che leggiamo direttamente sul sito di FederPrivacy che ci informa che il garante per la protezione dei dati personali ha recentemente adottato un provvedimento nei confronti dell'applicazione di intelligenza artificiale DeepSeek. Nel caso in cui tu non la conoscessi DeepSeek è una sorta di chat GPT cinese che in questo periodo sta letteralmente spopolando a livello mondiale. Tuttavia il garante della privacy italiano ha avuto qualcosa da ridire perché l'autorità ha rilevato che le società che gestiscono DeepSeek non hanno fornito informazioni adeguate riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali degli utenti italiani, inclusi i tipi di dati raccolti, le fonti, le finalità e nemmeno la base giuridica del trattamento o la localizzazione dei server. Di conseguenza questi si prendono i nostri dati, non sappiamo dove li mettono, come li trattano e soprattutto che cosa ne fanno. Il provvedimento quindi mi sembra legittimissimo. Infatti il garante ha disposto il blocco dell'applicazione di DeepSeek sul territorio nazionale ed ha avviato addirittura un'indagine ed approfondire giustamente la questione. Ma qui viene il bello. E sì, perché come leggiamo su Wired il 29 gennaio, e tieni bene a mente questa data perché è importante, a quanto pare Microsoft e OpenAI, cioè l'azienda che gestisce ChatGPT, si sono accorti che DeepSeek probabilmente gli stava rubacchiando dei dati. Se andiamo a leggere stretto stretto il contenuto dell'articolo, infatti scopriamo che il fenomenale successo di DeepSeek potrebbe essere nato anche grazie all'utilizzo non autorizzato di dati generati dalla tecnologia di OpenAI. E di questo si sono convinti fermamente sia Microsoft sia OpenAI stessa. Infatti i ricercatori di sicurezza di Microsoft avrebbero scoperto che individui presumibilmente collegati a DeepSeek avrebbero provato ad estrarre una grande quantità di dati utilizzando l'interfaccia di programmazione delle API di OpenAI. E cioè proprio lo strumento principale tramite il quale si accede ai servizi di ChatGPT. Puoi immaginare a questo punto quanto si sia infuriata da un lato OpenAI e dall'altro lo zio Bill e tutta la sua genga. E infatti? Tieniti forte, ma veramente forte, perché solamente tre giorni dopo, e cioè il primo di febbraio, EveryAI.it e insieme a lei tante altre testate di settore nazionali e internazionali titolavano così. DeepSeek arriverà sui Copilot Plus PC. Microsoft ci sta già lavorando. Insomma, un'intelligenza artificiale su cui si è detto di tutto, un'intelligenza artificiale bloccata dal garante della privacy italiana, sbarcherà dapprima sui Copilot Plus PC. Ma questo non possiamo ancora saperlo, probabilmente diventerà parte integrante dello stesso Copilot. Complimenti, zio Bill. Ebbene sì, se hai, oppure hai intenzione di acquistare un Copilot Plus PC, molto probabilmente ti troverai di fronte ad una scelta difficile. Da un lato mettere potenzialmente a rischio i tuoi dati personali, perché, come è stato ribadito dal garante della privacy, non abbiamo idea di come questi vengano trattati da DeepSeek, oppure dall'altra di rinunciare ad una funzionalità fondamentale del tuo nuovo PC, e cioè l'intelligenza artificiale online. Perché, a quanto emerge dall'articolo che ti ho appena mostrato, le intenzioni di Microsoft sono di deputare tutte le ricerche e le elaborazioni locali a ChatGPT, mentre tutte quante le ricerche che richiedono l'utilizzo di internet proprio, come abbiamo visto, a DeepSeek. Che cosa succederà? Beh, non lo sappiamo ancora, ma di sicuro stiamo con gli occhi molto, ma molto aperti. E veniamo a noi, anzi, ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti per te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo, non mi resta che ringraziarti e darti, come di consueto, appuntamento. Alla prossima!